Sindaco Mosciano è il comune più rosso del Terramano. Nelle ultime amministrative solo in questo comune c'è stato un successo elettorale del PDS ex PC che ha portato addirittura la maggioranza assoluta. Qual è la formula del successo del suo partito in una cittadina che potrebbe essere anche considerata borghese? Ma il successo credo sia derivato soprattutto dal rapporto che noi amministrazione comunale abbiamo tenuto con i cittadini, un rapporto costante, un rapporto e un dialogo che abbiamo aperto con i cittadini. Questo credo sia stata la chiave della vittoria. Niente di eccezionale, diciamo così, lavorando costantemente e tenendo aperto ai cittadini le porte comuni per tutte le loro esigenze. Partito comunista scissione, queste sono le prime elezioni in cui l'ex PC si presenta diviso, rifondazione e PDS. Lei che comunista si sente di essere, se ancora si può dire comunista? Io mi sento di essere ancora comunista. Negli ideali lo sono. Il fatto che il PC abbia fatto un congresso per scegliere una soluzione che fosse rinnovata rispetto ai tempi, credo che abbia fatto molto bene. Se oggi poi alcuni compagni per ragioni di sentimentalismo hanno scelto di riformare un partito come quello del PC, io credo che abbiano dato un brutto segno alla sinistra. Cioè hanno consentito che la sinistra ancora una volta si presenti di fronte agli elettori di Visa più di ieri. E credo che questo sia negativo per i lavoratori e per tutte le classi che hanno bisogno ancora della sinistra in Italia. Non dico del comunismo, almeno della sinistra, di forze, di opposizione che li sostengono nelle loro battaglie, nelle loro esigenze. Che risultato pensa che otterrà presentandosi in questo modo la sinistra nella prossima consultazione elettorale? È molto diviso, purtroppo molto diviso. E questo è molto negativo per quanti ancora hanno il bisogno di essere sostenuti in questa società, che sembra una società, diciamo così, fatta di condizioni economiche abbastanza buone, ma in effetti comincia a presentare delle situazioni abnorme. Cioè una classe che comincia a diventare sempre più povera e una classe che diventa sempre più ricca. C'è un continuo distacco tra classi e classi e quindi credo che la sinistra sarebbe necessaria più compatta e più numerosa. A Mosciano, maggioranza di sinistra, qual è il rapporto con le opposizioni e qual è il suo giudizio sulle opposizioni? Il rapporto è un rapporto corretto. Abbiamo istituito le commissioni consigliari, abbiamo un dialogo anche fatto quotidianamente con i consiglieri dell'opposizione. Le scelte, quelle di grosso rispire, vengono fatte insieme alle opposizioni. Lo statuto, per esempio, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale e che significa che prima della sua approvazione sono state ricercate tutte quelle possibilità di collaborazione con le opposizioni. E così dica sia anche del programma che questa amministrazione di monocolore si è dato, programma che all'insiedimento è stato approvato dal gruppo della democrazia cristiana con l'assenzione del Partito Socialista. Quindi credo che questi sono due momenti che dimostrano come ci sia un rapporto di collaborazione, di apertura verso le opposizioni, perché tutti quanti siamo impegnati per risolvere i problemi dei nostri cittadini. Che giudizio dare sulle opposizioni? Beh, è un giudizio francamente diciamo di sufficienza. Io credo che le opposizioni possano insistere maggiormente per la soluzione dei vari problemi dei cittadini. Io non credo che l'opposizione si faccia a colpi di ricorsi vari a atti deliberativi. Non ho mai creduto questa formula. Anche quando io in altra sede ho fatto parte delle opposizioni, ho sempre ritenuto che vada, spinta la maggioranza a compiere determinati atti, ad essere anche presentatori di progetti alternativi e quindi di essere propositivi, costruttivi in una società che appunto ha bisogno di essere, diciamo così, presente alla gente, di presentare proposte per risolvere i problemi che cominciano a essere tanti e anche, diciamo, non più risolvibili come avveniva in passato. Vi accusano però di aver mortificato alquanto la sete di cultura locale. Poche iniziative in tal senso, mentre l'ADC avrebbe ben altre proposte. Beh, io questa cosa la rigetto in toto. Credo che poche amministrazioni in provincia di Teramo hanno fatto manifestazioni culturali e attività culturali come la nostra. Ci sono capitoli di bilancio veramente sostanziosi. Nel bilancio comunale di Mosciano San D'Angelo possiamo presentarli e rendere conto di quello che si è fatto e che vorremmo ancora fare, nonostante ci sia proprio una direzione nazionale a tagliare queste spese. Infatti mi ricordo molto dei miti che diceva che chi vuole cantare in piazza tira i soldi in tasca e canta in piazza. Questo per dire che le manifestazioni culturali devono essere interamente pagate ai cittadini. Esiste qui a Mosciano un assessorato proprio alla cultura e al turismo che riteniamo funzioni e stia dando anche dei frutti. Solo un problema, che la cultura non ha quella presenza di massa che in genere hanno altri tipi di attività, altri tipi di assessorati. Cioè va incisa sulla gente ma per raccogliere i successi, per raccogliere dei frutti bisogna attendere, bisogna produrre tanto per raccogliere qualche cosa. Recentemente nelle ultime sedute del Consiglio la maggioranza di Mosciano ha rigettato la proposta della DC di eliminare nella toponomastica cittadina tutte le vie e le piazze intitolate a Togliatti. Il caso Togliatti ha fatto molto scalpore recentemente, lettera vera, lettera falsa. L'opinione del sindaco di Mosciano? Io l'opinione l'avevo già espressa in una seduta consigliare precedente, dove il gruppo della democrazia cristiana aveva appunto chiesto di togliere alla via intestata da Togliatti questo nome. Io risposi dicendo, prima di tutto, per motivi, diciamo così, storici, non è possibile cambiare il nome a nessuno, perché ci vorrebbe a questo punto una commissione di saggi che stabiliscono chi sta nel giusto e chi non è il giusto e non è cosa face. Tant'è vero che facevo riferimento a vie intestate ad esempio dai santi. Qualcuno potrebbe abitare in quella via di un santo, essere musulmano, ebreo, ateo e ritenere non giusto il nome a un santo, già che lui non crede a quella stessa religione. Faccio questo riferimento appunto per dire che chi non condivide Togliatti non significa che può dare il nome a Togliatti, e così dicasi anche di Alcide De Gasperi. Poi sull'uomo Togliatti, beh, noi abbiamo rigettato le accuse su Togliatti, anche perché quella lettera, innanzitutto, è stata dimostrata che era falsa, è stata fatta un'ignobile azione nei confronti di un uomo che noi comunisti riteniamo essere stato uno dei patri di questa democrazia. Perché credo che Togliatti poteva infucare i momenti della storia a tal punto il popolo che anziché darci questa democrazia di cui oggi noi siamo eredi, ci poteva dare anche un altro tipo di soluzione governativa. Eppure in molti hanno sostenuto che la crudeltà della lettera non cambiasse nonostante le due versioni. Beh, io credo che questi, ancora una volta, in mancanza di elementi da, diciamo così, da tenere in questa campagna elettorale, visto e considerato che l'est non c'è più e quindi il comunismo, quel famoso comunismo non è più pensabile da paventare e quindi chiedere attraverso questo scudo voti, hanno inventato questa lettera e hanno richiamato, diciamo così, sentimenti di cittadini contro, diciamo, chi oggi ancora soffre, ancora soffre per quei morti, che sono morti non per causa di Togliatti ma bensì per causa di Mussolini. Tanto è vero, ieri sera proprio, invece sono in televisione e mi sembra a mezzogiorno d'Italia di Funari, una signora leggere, perché era molto emozionata, una lettera in cui diceva per me questa cosa dovrebbe far, dovrebbe, diciamo così, darmi forza e sostenere chi dice male di Togliatti. Io ho perso un fratello, morto in guerra, ma non sono d'accordo, perché mio fratello è stato mandato da Mussolini a combattere una guerra che lui non voleva forse fare, è stato mandato senza indumenti e prima di morire questo mio fratello è stato curato da famiglie russe e che significa che c'è stata una certa solidarietà da parte dei russi in quella guerra e poi dobbiamo riconoscere che il popolo italiano era un popolo invasore e quindi mettiamoci dalla parte poi di chi sta con l'altra parte se dovevano accettarle a braccio aperto. Certamente loro dovevano comunque difendersi e quindi una guerra ci possono essere morti, giuste e non giuste, ma io condannerei chi ha mandato e ha voluto quella guerra che secondo me si poteva fare benissimo di farla, come tutto il resto delle guerre che vengono fatte. Il Comune di Mosciano Sant'Angelo è stato l'unico nel Terramano che ha proposto una raccolta di firme per una petizione alla RAI contro la soppressione della trasmissione di RAI 3 Samarcanda. Come mai questa iniziativa, più che come mai, che cosa pensate di poter risolvere con la piccola petizione di un comune di una piccola provincia? Ma noi certamente non potremmo risolvere il problema di Samarcanda, ovvero di ridare questa trasmissione ai telespettatori italiani. Però vogliamo dimostrare la nostra solidarietà con la redazione, anzitutto, e denunciare questo fatto come uno di, tra tanti, di questa democrazia che sembra così, diciamo, democratica, ma in effetti non lo è, perché ha sempre paura quando si dice la verità, quando, diciamo, soprattutto si fa parlare la gente. E Samarcanda era una delle trasmissioni che faceva parlare la gente, che aveva raccolto tante di quelle adesioni, appunto, perché era una trasmissione non preparata e non organizzata per dire e, diciamo così, far dire ciò che si vuole e non ciò che si pensa. Le prossime elezioni si svolgono in un clima abbastanza particolare e magmatico. Come vede lei queste elezioni, le prospettive? Ma, le prospettive, io vedo un avvenire sempre più difficile. Più difficile soprattutto perché il voto, diciamo così, viene chiesto da tanti. Non c'è una vera e propria compagine governativa e quindi non credo che avremo un governo che governi e quindi questo mette in seria difficoltà, diciamo, l'avvenire degli italiani. Io credo che si debba fare uno sforzo al di là delle proprie convinzioni politiche, dell'appartenenza ai singoli partiti. È necessario che si facciano seriamente le riforme istituzionali, ma non a chiacchiere, perché ormai sono cinque anni che le forze di governo firmano accordi, firmano programmi e mettono a prima posta le riforme di governo, ma poi non li fanno, perché non è comodo fare le riforme di governo. E sappiamo anche perché? Perché nessuno di chi governa vuole rinunciare a propri privilegi, a proprie posizioni ormai acquisite. E allora così non si fanno né le riforme, né si fa la democrazia, che tanto, diciamo, sbandierano, e né risolviamo i problemi cittadini. E quindi questo stato di disagio, questo stato di confusione che si è creato, credo che hanno dei veri e propri responsabili. Io inviterei i cittadini a vedere qui, diciamo, le motivazioni per dare un quadro politico in Italia diverso da quello attuale. riforme istituzionali. Condivide dunque il patto referendario e pensa che possa essere qualcosa di più di una promessa elettorale? Io condivido il patto referendario come condivisi il referendum dell'anno scorso. Io sono stato uno di quelli che ha fatto campagna elettorale per il referendum, come tutto il Partito Democratico della sinistra, e credo che serva da spinta a questo governo perché si decide una buona volta a farle. Però già si notano segnali nei due maggiori partiti, in quella della democrazia cristiana e nel Partito Socialista, segnali che non accettano il patto referendario e quindi diciamo che ancora una volta forse vogliono usare l'arma del rinvio per non farle. Io inviterei i cittadini proprio a fare una riflessione anche per questo aspetto. Cioè non facciamo che oggi predichiamo tutte le riforme istituzionali, però di fronte a un patto che va al di là della propria posizione partitico non si accetti e quindi può essere motivo per un ulteriore rinvio. Un sindaco oggi e i problemi di una comunità, qual è l'impegno? Per me è l'impegno di ieri, l'impegno di oggi e di domani è lo stesso. Cioè quello di essere costantemente tra la gente, di ascoltarli, di poter soddisfare le richieste che vengono da queste persone, dalla base e spiegare laddove non è possibile soddisfarli. Perché le esigenze cominciano ad essere tante, le risorse poche e allora bisogna fare delle scelte, cioè tener conto delle priorità e far capire della necessità di queste priorità. Questo credo che sia da parte mia e da parte di molti sindaci l'essere soprattutto a servizio della gente. Una volta si parlava di servire il popolo, oggi si usa molto meno questo termine, ma io ancora ci credo, forse sarò un po' rilluso, ma io ancora credo nel servizio agli altri.